Siamo qui per manifestare Siamo qui per una manifestazione pacifica perché siamo tutte brave persone, siamo per la libertà, per la libertà assoluta, per la nostra libertà individuale che è stata violata completamente da questo decreto, legge, che vuole farci vaccinare, che noi ci facciamo iniettare una sostanza che non è un vaccino ma è una terapia genica sperimentale e che io posso decidere di non farla entrare nel mio corpo. E dovremmo essere uniti, il vaccino non c'entra assolutamente niente, noi siamo qua per i nostri diritti. No di pass, no di pass! No di pass, no di pass! No di pass, no di pass! Libertà! 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 Liberta, 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 liberta. Liberta, 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 liberta. Liberta, 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 liberta. Al grido libertà, no green pass, in tantissimi hanno invaso Piazza Libertà nel cuore di Bassano per una manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città del Veneto e d'Italia per contestare l'ultimo decreto Draghi che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Non green pass perché è una restrizione per la nostra libertà, quindi no green pass. Non green pass perché non è libertà. Perché dice che non è libertà signora? Perché ognuno è libero di fare quello che vuole anche con i vaccini e con vivere. Dobbiamo essere liberi di scegliere. No green pass perché vogliamo la libertà. Siamo stupi. Liberta, libertà, libertà, libertà. Un grido a corale per manifestare la libertà di scelta, striscioni, cartelloni, un'unica voce. Presidente la libertà, libertà, libertà! Grazie. 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 Libertà! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.